bello a tutti eccoci di nuovo in live con mirror sage sperando questa volta di non avere problemi di connessione all'ultimo perché ieri sera mi sono un bel po girate con questo fatto della connessione ma comunque speriamo bene di non avere problemi di sorta e andare avanti e col gioco spererei anche di concludermelo veramente così andiamo a vedere il 2 ma comunque se così non fosse lo porterò non vi preoccupate anche prossimo sabato e comunque prossima domenica perché sabato e domenica è dedicato appunto a questo mentre il resto della settimana è dedicato alle schedule che già c'è che potete vedere nelle informazioni del canale comunque quindi è dedicato a dragon quest e a mass effect 3 che non so bene se sto per finire veramente mass effect a dire il vero probabilmente sì però vedremo vedremo un po allora tanto io faccio un'altra cosa perché come vi ho detto nella live precedente anche in quella il siga hai detto brian se vuoi passare sul discord dai già e dopo dopo dai sì che lui sta portando gli occhi ho visto gli occhi voli word aspetta un attimo che io devo attivare intanto quel twitch da cellulare come al solito perfetto 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 che si dice siga che mi racconti di brutto di bello giuro che ce la posso fare ah vai a nina 13 ma mi lasceresti solo con brian ma che sei pazzo ma non ci provare e comunque pure io un po stanchino sai e oggi sono stato con la fidanzata quindi sono tanto tanto stanco sono uscito ho fatto ho detto e sono stanco va beh pazienza ormai sono come un vecchio si sa per cui questo lo chiudiamo questo lo mettiamo per così e avviamo il gioco direi ah vabbè non ti preoccupare capita capita tutti mi lasciano con quell'effetto non so come mai nessuno vuole frequentarlo tranne me però è un bravo ragazzo eh quando dorme ma in generale è un bravo ragazzo allora vediamo come mi posso schiantare l'amico di robur forse ma sembrava un elicottero della polizia e chi altro potrebbe girare su un elicottero da queste parti non muovi ehi muoviti se lo vuoi prendere e stai lontana dalle strade devo andare da qua abbiamo un po di rincorsa e schiantiamoci benissimo così infatti volevo prendere il rincorso per schiantarmi io no ma dov'è che sbaglio in sto punto io mi domando ok ma un po' mi scantavo lo stesso com'è andata la tua giornata siga raccontami qualcosa ok ok aspetto devo andare da qua Ma ho stampato un po' di robina interessante Poi sono andato al bar con degli amici Al bar Uh che botta di vita Da quant'è che non andavi al bar? Dalla pandemia penso È stato un po' strano immagino Tu che hai fatto bello prima l'uscita con l'amorosa Ma niente 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 di che Sono stato un po' a casa Stamattina sono stato tutto il giorno a casa veramente Ho dormito fino a tardi Quindi Ho dormito fino a mezzogiorno Mezzogiorno e mezzo Poi ho pranzato E nulla Tutto qua Poi verso le tre e mezza sono andato a prendere l'amorosa Siamo stati un po' qua Ci siamo visti un film Poi siamo stati un po' in giro Tutto qua Mi sa che dovevo salire là sopra Non lo ricordavo già più È praticamente un anno Sì infatti hai ragione Su quello hai ragione Che era da un anno che non andavi al bar Beh immagino che sarà stato un po' strano E io non mi so immaginare mai Che torno a bere una birra da qualche parte O che faccio chissà che Non so come mai Volevo vedere se c'era qualcosa di interessante Ma niente È un no quindi Ehi sì Allora La mia missione Qual è quella del treno Io non me la ricordo Ma questa qua del treno Non me la ricordo Sinceramente Ma ti ho ragione Se è bella Veramente Deve essere Una figata proprio Dove io morirò sempre Non mi ricordo Come cazzo Dovevo fare Dovevo rampicarmi Aspetto Sì Ok Dove sei Nella stazione Dei treni Tipo Forse è quella dopo Beh già L'ho sorpassata La stazione Dei treni Però Non me ne è capitato Nessuna Cioè col treno Che dovevo fare Chissà che Devevo soltanto Attraversare la stazione Dei treni E scappare attraverso La stazione Quello sì Comunque oggi Mi son visto Il trailer del 2 Devo dire che non è male Tanta roba Peccato che hanno levato Un po' di cose Un po' Quelle cose fumettose Però vabbè Sì però va Che cazzo Ma vaffanculo Che botta Che botta Ah ok Ah ok Come cazzo Son morto Quindi intendevi Quella la Un attimino Che devo rispondere A un messaggio Che palle Che palle Che palle Ok Ok Ah perché Poi c'è il vapore In tutto questo Ma c'è in modo di Eh no Sarà in modo di farselo fuori No Benissimo Non è così il modo Che è la stanchezza Brutta Ok Ok Comunque prima pensavo che ti riferissi a qualche altra missione dei treni Mildred, merda! Che cosa? Già, mai fidarsi degli sbirri E' corromperlo Ed è dentro fino al collo nel progetto Icarus Io salvo Vedo di scoprire qualcosa su poco No Ah no no, l'unica è quella lì Poi del secondo non lo so No, il secondo non lo so neanche Ho visto qualche trailer, qualche cosa così E ti ripeto, già dal trailer quello lì è tanta roba Come gioco Cioè graficamente l'hanno migliorato un sacco E anche se hanno levato i filmati stile manga per intenderci Minchia della botta E non solo, anche nel combattimento ho visto che ora c'è soltanto il corpo al corpo E non più le cose con le armi Minchia ma sono qua un mostro, cazzo Oh Minchia ma me l'aspettavo sta gran botta Sta gran botta non me l'aspettavo sinceramente Mi ha colto un po' impreparato Combattimento del secondo è tanta roba Eh, ho notato che mi stecca Eh sì E ora gli rallento il tempo Che è pure brutto No, non più che altro non me l'aspettavo, sai Cazzo puttana Magari non ci scassare il cazzo D'arte le mani, sai? Hai incastrato tu Kate Connors? La sbirretta? Sì Serviva un agente, vero? Io non faccio politica Ti ho ucciso poi, tu? No, io, io ho ingaggiato Chi? Un professionista Lo vedrò domani, alle due Matrio del centro commerciale Lo riconoscerai Perché eri con me? Sei sicura di volerlo sapere? Tirammi su e te lo dirò Attento, Faith Niente scherzo, sei storia Sì, sì No, minchia, se lo sono uccisi Merda, qualcuno spara Robert ne è morto Ma che? Stanno per arrivare gli sbirri Vattene, Faith Non devo andare per l'ascensore? Ah, che cazzo Ah, se andavo di sopra? No, non potevo Ah, che palle Oh Oh, minchia Eh, te mi staccano Agro a cambiare zona Ah, che cazzo Ah, che cazzo Ah, che palle Che non riesco a fare le cose Ma non ricordo io Questa parte Eh, lo so Nabbo, Nabbo Prova a farlo tu Vediamo Tu che suggerimenti c'hai Eh, Nabbo Eh, Nabbo Penso, è da andare per l'ascensore Non solo che mi steccano, capito? Lo so, lo so Che scherzi, Siga Lo so Comunque Comunque, si accettano suggerimenti Siga Porca puttana Sì, però sono alla viglia Eh, che cazzo Correre, correre come non hai fatto prima Grazie, bel suggerimento Oh, sperare come non ho mai fatto prima La tromba dell'ascensore è l'uscita più veloce L'unica Cerca di attivare l'ascensore Finchia Aspetta che ora ti leggo Correre come È come un rock così freddo di dietro Che corri È come un rock così freddo di dietro Mi dissocio Ma qua? Ma qua? Ok Questo è complicato No Questa è complicata Ah, sbagliato Il segnale è instabile L'abbiamo Iscriviti al canale Un l'abbiamo No, no, no. Posso andare da qua, no? Uh, sì, che posso andare da qua. No, cazzo, che ho sbagliato tasto. Cazzo. Vai, abre, 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 dai. Pirri di fronte a te. Dovrai baterti. Pirri di fronte a te. 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 Oh Stronzo Sbamma cazzo travolgere però Minchia Mi sono cagato in mano Oh Non si muove più Minchia figlioli che non si muoveva Sui binari No di nuovo qua no però Che palle Sbamma cazzo Sbamma cazzo Eh mi sta dissi che questa qua è quella che mi dicevi Altra voglio farmi fuori waste And foot Sbamma cazzo Sbamma cazzo Oh In fondo la piattaforma c'è l'accesso ai binari Forse c'è una via di fuga M'erano Cazzo Iscriviti Oddio No non ci arrivo Forse ci arrivo Più o meno È rimasto bloccato da qua E infatti Ah che cazzo ho fatto Eccola Te ne vai siga notte notte Fai buona nanna grazie per la compagnia Oh 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 ma cazzo di hudu hudu ahia ahia pigliamo un poco di respiro due minuti ahiaia minchia è tutta la botta 3 minuti Grazie. Allora. Scusa un attimo. Sono crescioso. Porco cane. Scusa un attimo.